Tutti pazzi per Taylor Swift, parte la tournée in Arizona e per la città, per qualche giorno cambia nome e diventa Swift City. Fan in delirio, l'aspettavano da 5 anni. Francesco Cristino. Un po' come il concerto dei sogni, maratona di 3 ore e 44 brani, canzoni da ogni singolo album, potenza di Taylor Swift, molto più di una pop star, lei è la quintessenza dell'industria musicale. Primo tour in 5 anni, prima data a Glendale in Arizona, un viaggio iper pop attraverso le epoche di una carriera lunga 17 anni. Fan in visibilio, musica, scenografie ed effetti speciali da urlo. Cantautrice eclettica, forse la più influente al mondo, un brand che da anni macina in scioltezza record, social e generi musicali. E nonostante il caos sulla piattaforma Ticketmaster, le vendite dei biglietti sono state un boom assoluto, come quelle del suo ultimo album, Midnight. Tutti ai piedi di suo maestan Taylor, dunque anche la stessa Glendale, che in suo onore ha cambiato nome in Swift City. E se lo dicono anche le previsioni meteo. E se lo dicono anche in 2021, da ora continuare a andare. E se lo dicono anche in Swift City, una vera. E se lo dicono anche in Swift City, qui è ora in 49kg. E se lo dicono anche in Antihero.